Poliarte rappresenta per me l'inizio di un percorso che mi ha permesso di approcciarmi realmente al mondo della moda e quindi di capirne anche i meccanismi reali all'interno. Ho scelto il corso Fashion perché era un interesse che avevo sin da quando ero piccola quindi volevo appunto proseguire e specializzarmi appunto nell'ambito della moda e soprattutto in futuro prossimo vorrei diventare un fashion designer per esprimere al meglio la mia creatività. Consiglierei Poliarte perché è una realtà molto accogliente e familiare quindi sei a stretto contatto con i professori che ti aiutano durante il tuo percorso e non c'è un divario come in qualsiasi altra università quindi c'è un rapporto molto umano molto stretto e ti aiutano concretamente durante appunto tutte le assegni tutti i compiti che ci danno da svolgere. Allora c'è avanguardia perché il nostro corso è appunto un'evoluzione continua cioè la moda non si ferma soltanto a un singolo concetto ma appunto come il vintage che ritorna c'è sempre una destrutturazione di un capo e una chiave diversa per lo stilista per ciascuno di noi quindi c'è sempre una base di creatività personale. Grazie. Grazie.